Siamo con Coach Mancotto al termine della Michevole vinta con Verona. Innanzitutto un commento, se è soddisfatto della prestazione in campo e se ha visto quelli che erano i primi, diciamo, dettami tecnici che vuole ha dato dell'impronta alla squadra? Prima di tutto devo ringraziare la squadra per il lavoro che ha fatto fino a questo momento. Una grande attenzione, una grande partecipazione, proprio già un attaccamento forte a quello che deve essere. La mia contentezza di questa sera è aver visto i tanti errori che abbiamo commesso, perché da un punto di vista tecnico l'allenatore attraverso le partite fa un check, per cui il check di questa sera abbiamo commesso tantissimi errori in difesa, ma abbiamo visto dove dobbiamo indirizzare il lavoro. Abbiamo visto tanta buona volontà in attacco, ma tanti errori in attacco. Quindi sono favorevolmente impressionato dagli errori, perché mi permetteranno di lavorare nel modo migliore. È una squadra che ha cambiato parecchio e in alcuni uomini, magari chiave rispetto all'anno scorso, ha delle caratteristiche diverse. Penso ad Halloway o Omar Thomas, che non sono più vitali, ed Aaron Washington. Però ci sono state comunque delle grandi prestazioni, soprattutto penso a livello di leadership. Come ogni anno, qualunque squadra tu hai, anche se fosse la stessa dell'anno prima, ha una trasformazione, perché cambia lo status dei giocatori, dall'età, se hanno fatto un campionato buono o meno buono. La società, ciao Fabrizio, ha inteso cambiare ritmo e riprogrammarsi. Quindi questo è un po' il progetto, quindi come quando partono tutti i progetti bisogna sapere in quale direzione portarli e con quali uomini. Quindi sono stati scelti gli uomini e il progetto adesso stiamo lavorando per unire tutte queste due forze. La consapevolezza, partiamo dai nostri limiti. Giustamente voi dite che siamo piccoli, non è vero, è molto vero, è verissimo, quindi non bisogna nascondersi. Ci manca esperienza perché siamo molto giovani, verissimo, siamo sei nuovi, benissimo. Però questi sono tutti i punti di forza, devono diventare. Non mi piace demonizzare i difetti, mi piace lavorare sui difetti per migliorarli, così come quando tu conosci i difetti porti alla massima forza le tue qualità e quindi è quello su cui stiamo lavorando. Ultima domanda, ci saranno tanti amichevoli, questa qua è la prima, su quale aspetto adesso l'Avanoli si deve concentrare per cercare di migliorare comunque sempre pian piano? Guarda, noi abbiamo fatto le prime due settimane dove abbiamo avuto e abbiamo tanti allenamenti perché volevamo proprio vedere che idee e come erano concepite e sviluppate dai giocatori. Poi dopo la seconda settimana, quindi dal prossimo weekend in Valtellina cominceremo a giocare tantissime partite. Ne abbiamo dieci, questa è la prima, perché essendo una squadra nuova e giovane credo che sia importante che si conosca, quindi le tante partite avevano questo obiettivo. La seconda cosa, sapete che a me piace il livello alto delle partite e quindi affronteremo tutte le squadre di spessore, affronteremo squadre d'Aurolega, squadre turca, squadre stranieri, italiane. Perché? Perché vogliamo vedere le difficoltà perché proprio attraverso quelle tu costruisci la mentalità, la qualità tecnica e tattica per affrontare l'inizio del campionato. Quindi il prossimo step è uno step molto difficile, però ci servirà per capire attraverso i due check dei due incontri quali sono stati i progressi, quali sono le cose che dobbiamo migliorare, le cose da inserire. Grazie mille.